Giovedì 28 dicembre alle 20.30 al Cineteatro di Ardesio, una serata dedicata a turismo sostenibile e sviluppo locale. Un appuntamento promosso da Vivi Ardesio, un po' per fare il bilancio dell'attività ma anche per anticipare i progetti futuri. Sì è proprio così, quindi ne approfittiamo a fine anno, tempo di bilanci e questa è una terza assemblea che facciamo, quindi ne abbiamo fatte già altre durante l'anno perché crediamo nella comunicazione alla cittadinanza del progetto su cui stiamo lavorando. Vivi Ardesio è un'associazione di volontariato e quindi il rapporto con la propria comunità è fondamentale. Quindi parleremo di quello che è stato fatto nel 2017, tante cose interessanti ma che non vi elenco sia perché l'elenco magari è lungo ma sia perché almeno avete la curiosità di venire all'assemblea il 28. E soprattutto parleremo però di questo progetto, l'Orobie Vision 2030. Difatti il motivo dell'assemblea è proprio questo di parlare di turismo sostenibile e quindi lo sviluppo locale. È un progetto importante, vi ricordo che abbiamo anche ricevuto un premio per questo nostro progetto a Londra il 7 di dicembre e sarà l'occasione proprio per confrontarsi con alcune idee, alcune ipotesi, alcuni approcci che noi abbiamo voluto dare. Tocca il nostro territorio, tutta l'alta valle seriana e quindi è un motivo in più per capire che tipo di percorso andremo a sviluppare in questi prossimi anni. Verrà poi tutto declinato ovviamente in un progetto e in un programma più contingente, parleremo del 2018, 2019 e 2020 che sono i tre anni in cui vorremmo poi che questo progetto mettesse piede e cominciasse poi a poter camminare. Durante la serata verrà proiettato anche un breve filmato sulla Val Canale che per noi è il nostro gioiello su cui puntiamo per la parte del turismo escursionistico e quindi sarà interessante anche questo aspetto. Il turismo sostenibile quindi come progetto per le prossime generazioni perché poi sappiamo che ci sono tutti questi problemi che toccano la parte del lavoro, la parte del commercio, però vogliamo comunque guardare avanti. Crediamo che ci siano delle potenzialità inespresse da mettere in campo e da mettere in gioco e noi vorremmo appunto giocarla questa partita. Poi i risultati vedremo insomma, però siamo impegnati su questo aspetto e quindi poi non siamo gente che molla e quindi vedremo di portare avanti questo progetto. Parleremo anche di quello che è stato fatto per l'altro settore importante che è quello del santuario e avremo anche l'occasione di annunciare questa nuova soluzione che abbiamo adottato che sono delle video guide che accompagneranno i visitatori, i turisti, i pellegrini che vogliono avere informazioni in più durante la loro visita al santuario. Abbiamo partecipato a un bando regionale, il capofila era promo isola, promo serio e la parrocchia di Ardesio ha appunto partecipato e vinto questo bando regionale e con questo finanziamento abbiamo puntato alle video guide. Sono 12 video guide che saranno disponibili presso la cancelleria del santuario per i turisti, i visitatori che vorranno appunto usarle e un unicum, mi risulta che sia un unicum anche in Val Seriana e perché anche sono delle video guide, quindi è un tablet su cui possiamo proiettare sia immagini che ovviamente la parte audio e quindi veramente una soluzione di ultima generazione e pensiamo di fare un che verrà apprezzato senz'altro dai visitatori, dai turisti e dai pellegrini.